Con la sua grinta e la sua qualità, il giovane dai salvataggi impossibili è entrato di diritto nel cuore dei tifosi biancorossi. Stiamo parlando di Leonardo Scanferla, libero classe 1998, che dopo essere stato il giocatore a rivelazione dello scorso campionato di Superlega, adesso, al secondo anno in maglia Gasseis Blue Energy Volley, può permettersi di sognare in grande. Dal punto di vista collettivo vi indicano gli addetti ai lavori, tra le squadre favorite, sicuramente per i play-off, per rientrare nel lotto dei play-off. Dal punto di vista individuale, invece, che cosa ti aspetti personalmente quest'anno? Sicuramente quello di crescere. Ogni anno dico che voglio fare uno step in più. Già in questi giorni, in queste settimane, sto imparando molto dai miei compagni, che sono compagni esperti, compagni che hanno girato le nazionali, hanno fatto molte qualificazioni, tornei. Quindi, sicuramente vorrei fare un gradino in più di quello che ho fatto l'anno scorso e spero di riuscirci. Parlano della squadra, tanti campioni sono arrivati in questo mercato, la squadra è sicuramente molto competitiva, dove potete arrivare secondo te? Adesso è difficile dire, sicuramente non dobbiamo nasconderci, siamo una squadra molto molto valida e la società ha fatto un ottimo lavoro, secondo me. Però è completamente una squadra nuova, per cui abbiamo bisogno di tempo per provare i nostri sistemi di gioco e imparare a conoscerci. La prossima sfida è quella di Coppitalia contro Cisterna, che è anche la prima di questa nuova stagione. Come la state preparando e quali sono le prospettive? Sicuramente sarà una partita tosta, anche Cisterna si è rafforzata molto, sono sicuro che la procederemo al miglior dei modi, anche perché c'è tanta voglia di giocare e c'è tanta voglia di ricominciare.